Opera a Busto 59-49, prima vittoria stagionale per Opera e sconfitta per Busto che però da settimana prossima farà un'aggiuntina a un giocatore scarso che l'anno scorso faceva 8 punti di media in Serie A, Enghina Sur è stato anche in Nazionale Turca, voi chiederete come fa ad arrivare uno che giocava nella Nazionale Turca in Eurolega ha vinto i campionati in Turchia a giocare a Busto in Serie C Gold, è semplicissimo, basta che sei sposato con una ragazza che gioca nel Busto nella pallavolo femminile e ti trovi automaticamente a giocare in C Gold, credo, immagino tu sia d'accordo con me, sposterà leggermente gli equilibri Giusto un pochino, non so, qua non è semplicissimo sapersi adeguare un campionato quando sei abituato a un livello alto-alto Per niente, infatti ad esempio Federico Maiocco che l'anno scorso giocava in A2 con Legnano, che è un super giocatore è una testa sopraffina per il basket, specie a livello difensivo, però il canestro comunque devi sempre segnarlo e non è che in C non ti difendono, anzi forse ti difendono pure di più, perché sei magari la prima punta della squadra quando magari in A2 avevi gli americani, avevi i compagni di altro livello Ho avuto la fortuna con la Lega 2 di vederlo tanto, due anni fa quando ho fatto assistente con lui, Federico, ha una mente superiore Infatti lui glielo ha sempre detto, deve fare l'allenatore appena smette E sta iniziando ad essere mente superiore, non credo farà l'allenatore perché sta facendo altri lavori Quindi altri impegni, mente superiore, partita contro Cantù, ha marcato un pochettino di Giulio Maria, non tantissimo però 12 punti, 13 rimbalzi, che non sono numeri facili in Serie C